ciao e benvenuto al podcast di impara la fotografia e la musica di sottofondo ci dà un piccolo indizio sull'argomento dell'episodio di oggi se anche te come me sei un appassionato della serie il trono di spade non puoi non aver notato come l'utilizzo dei colori in questa serie è un aspetto fondamentale per la narrazione di questa storia epica ma prima di iniziare voglio ricordare a tutti che potete iscrivervi sul gruppo impara la fotografia su facebook potete andare anche sul sito internet www.imparalafotografia.com dove potete trovare tutti i podcast che sono stati realizzati e la community dove ci scambiamo le informazioni pubblichiamo le fotografie e soprattutto ci diamo consigli su come migliorare in fotografia e commentiamo gli episodi del podcast se poi vuoi fare un piccolo passo in più e dare una mano alla creazione dei contenuti di questo progetto puoi andare su patreon www.patreon.com riccardopedica dove con un piccolo contributo mensile mi potrai aiutare a continuare a creare contenuti di questo tipo e soprattutto entrerai a far parte della community dei produttori che hanno accesso a dei contenuti riservati e soprattutto a delle informazioni in anticipo su tutto quello che sarà creato nel progetto impara la fotografia bene allora entriamo nel vivo del podcast e andiamo a vedere come possiamo capire la teoria dei colori attraverso il trono di spade iniziamo con un po di teoria ogni colore può essere considerato come gli unioni di tre caratteristiche la tonalità la luminosità e la saturazione la tonalità è legata alla lunghezza d'onda della luce quindi ad ogni differente lunghezza d'onda abbiamo un differente colore la tonalità è rappresentata in teoria come un cerchio dove a differenti gradi della circonferenza corrispondono diversi colori quindi abbiamo nella parte superiore i colori caldi nella parte inferiore i colori freddi i colori caldi sono quelli che vanno dal giallo al rosso all'arancione e vengono chiamati caldi perché associati agli elementi che danno calore come ad esempio il fuoco i colori freddi invece partono dal verde arrivano al blu fino al viola e sono al contrario dei colori caldi associati agli elementi che invece non generano calore anzi danno una sensazione di freddo come ad esempio il ghiaccio o la neve ed è qui che inizia il primo parallelo tra la teoria dei colori e il trono di spade che io chiamo il tono di spade cioè la lotta tra il ghiaccio e il fuoco o tra i colori caldi e i colori freddi ed è lampante come nella serie proprio questi colori caldi e freddi vengono utilizzati per definire il luogo nel quale si svolge l'azione quando danaris si trova nel deserto con i dotrachi i colori sono tutti sul marrone arancione giallo si sente e si vede il calore mentre quando ci spostiamo a grande inverno abbiamo che le immagini diventano tutte blu le tonalità dei colori che vengono utilizzate quindi si associano al luogo in cui si trovano quindi in un luogo dove è pieno di neve e di ghiaccio e quindi quello che prevale è questo blu intenso che ci trasmette una sensazione di freddo la seconda caratteristica del colore è la luminosità cioè è la quantità di bianco presente nel colore che stiamo utilizzando questo valore si definisce in percentuale quindi quando abbiamo uno 0% di luminosità il nostro colore sarà praticamente nero quando abbiamo un 100% di luminosità il colore sarà bianco e nel mezzo avremo tutte le sfumature di intensità di luminosità del colore che abbiamo scelto quindi immaginiamoci un rosso potremmo andare da un rosso molto scuro a un rosso molto chiaro in base al tipo di luminosità che stiamo decidendo di dargli e se la luminosità è stata sempre associata con la positività l'assenza di luminosità con la morte o comunque una negatività e vediamo la stessa cosa proprio negli episodi di game of throne quando all'inizio sansa stark viene vestita con dei vestiti di colore molto chiaro utilizza solitamente dei colori rosa celeste verde giallo molto molto chiari che indicano proprio una purezza della ragazza all'inizio della sua storia poi dopo con l'avanzare delle stagioni i suoi vestiti diventano sempre più scuri proprio ad indicare una maggiore forza personale della ragazza ma anche maggiori responsabilità e soprattutto negatività perché ne subisce di tutti i colori con l'avanzare degli episodi il terzo elemento che caratterizza il colore è la saturazione anch'esso viene indicato in percentuale ed indica la purezza del colore quando abbiamo 0% significa che il colore è praticamente grigio quando abbiamo il 100% invece abbiamo un colore puro che potrebbe essere in quindi in questo caso nel rosso un rosso puro e vivido ed anche questa cosa negli episodi del trono di spade viene utilizzata nei vestiti ad esempio di cersei quando all'inizio pura e quindi fedele alla sua famiglia veste dei vestiti rossi molto intensi che quindi danno proprio la sensazione di appartenenza di purezza di attaccamento alla propria famiglia mentre poi quando invece subisce una sorta di processo e quindi viene praticamente allontanata dalla famiglia la saturazione dei vestiti che porta viene praticamente portata verso il grigio quindi ad indicare un distaccamento dalla sua purezza dalla sua famiglia ed una meno forte capacità di rimanere attaccata ai valori proprio della sua casata che è così forte durante lo svolgersi degli episodi quindi facendo un piccolo riassunto di quello che abbiamo detto attraverso i colori possiamo trasmettere delle emozioni questo viene fortemente utilizzato da tutti i film ma ho notato che nel trono di spade questo tipo di utilizzo è facilmente riconoscibile quindi per il colore caldo e freddo vediamo che nel deserto ci sono colori caldi nella montagna e nella neve utilizziamo dei colori freddi e sono veramente spinti all'eccesso poi vediamo come la luminosità è utilizzata per farci capire che stiamo andando verso una situazione più o meno critica e che quindi il nero è associato con la negatività mentre il bianco ha la purezza ad esempio Daenerys all'inizio aveva un vestito che sembrava quasi da sposa mentre alla fine degli episodi nella stagione 8 è quasi sempre vestita di nero proprio dovuta alla criticità della situazione ed infine la saturazione che ci va ad indicare proprio la purezza del colore quindi la purezza delle intenzioni associate ad esso un rosso intenso ci va ad indicare quindi una forte passione un rosso sbiadito quasi verso il grigio va ad indicarci che questa passione è andata un po a svanire e quindi io quello che posso consigliarvi è quello di guardare i prossimi episodi facendovi prendere dalla storia ma anche facendo attenzione a proprio l'utilizzo dei colori perché questi sono super interessanti per capire come gli sceneggiatori hanno deciso di trasmetterci le emozioni quindi le emozioni ci arrivano dallo svolgimento della storia ma anche dall'utilizzo dei colori che ne fanno da cornice quindi cerchiamo di vedere questo episodio con occhi nuovi e magari utilizziamoli nella nostra fotografia per trasmettere le emozioni che abbiamo imparato a capire attraverso la nostra serie preferita bene allora con questo gioco di parole orribile che ho chiamato il tono di spade spero di avervi un po aperto gli occhi su questo tipo di teoria e ci sentiamo alla prossima puntata del podcast di impar la fotografia ciao da riccardo